Eccoli qua. All'inizio della curva prosegue in vantaggio Seilu davanti a Golden Ballur, Arirud, Tegritte, Veronica, Astro, Benigno e Super England. Poco prima dell'ingresso in dittura è sempre in vantaggio Seilu davanti a Golden Ballur, Arirud e Tegritte, Veronica. I cavalli entrano in dittura con Seilu in vantaggio davanti a Arirud, Tegritte, Veronica, Astro, Benigno, Golden Ballur e Super England. Passa Arirud davanti a Seilu, Tegritte, Veronica, Astro, Benigno a centropista. Più staccati Super England, in leggero vantaggio Arirud, attaccato all'esterno da Astro, Benigno, passa Astro, Benigno, davanti a Arirud e Saeilu. E in vantaggio Astro, Benigno, davanti a Arirud e Saeilu. Ma insomma erano in due che si giocavano la partita, Astro, Benigno e Arirud e sono arrivati nell'ordine per la felice intuizione del nostro Stefano. Comunque, attenzione alla voce del campo, Saeilu che non paga oggi, non paga in questa circostanza. Ma insomma, certo, però si prenota, si prenota. Sì, Vinciastro, Benigno, Pasquale Borrelli, figlio di Mujahid, 2,32 la quota del vincente e 1,3, quindi 1,3 all'ipodromo delle Capanelle in questa prova riservata ai cavalli di due anni.